Offrire assistenza turistica in italiano e in lingua straniera per scoprire le bellezze della regione molise. Con questo obiettivo è stato inaugurato al porto turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia, uno sportello in grado di accogliere e informare i vacanzieri. L'iniziativa è stata voluta dalla Confesercenti di Campobasso, in collaborazione con il Centro Studi sul Turismo dell'Università del Molise, che metterà a disposizione i suoi studenti per i tirocini formativi. Lo sportello collabora con gli operatori locali, come albergatori, organizzatori di congressi, e altri uffici informazione presenti sul territorio. All'Infopoint i turisti troveranno tutta l'assistenza e le informazioni necessarie anche per visitare il Molise interno. L'idea è nata, devo dire la verità, proprio qualche mese fa da una visita nostra da parte della Confesercenti qui in questa bella struttura di Marina Sveva e abbiamo subito lanciato la proposta di uno sportello turistico in Infopoint e quindi abbiamo nel giro di breve tempo siglato appunto un protocollo d'intesa tra la Confesercenti, Assoviaggi e il porto di Marina Sveva. Ovviamente poi io per primo insomma ho preso anche accordi con l'Università di Studi del Molise, in questo caso in particolar modo il professor Pazzagli del Centro Studi sul Turismo. Quindi questo sportello diventa un vero e proprio front office anche per raccordare il turismo costiero con il turismo interno che è quello che vogliamo maggiormente promuovere. Non a caso ci sono molti comuni che hanno aderito, hanno sposato questo progetto.